Il sindaco di Brindisi, Mimmo Gonzales, è stato arrestato nelle prime ore del mattino di sabato dalla Digos del capoluogo brindisino con l'accusa di abuso d'ufficio e corruzione. Insieme a lui sono coinvolti un commercialista ed un imprenditore. Sia al sindaco che all'uomo sono stati assegnati gli arresti domiciliari. L'indagine si riferisce a una situazione riguardante l'affare dei rifiuti nel territorio di Brindisi segnato da due importanti anomalie, l'esclusione della zona industriale e di quelli dei centri commerciali dal bando per la raccolta e la differenziazione ed il trasporto dei rifiuti. La Digos aveva lavorato a lungo su questo e alla fine ha affidato alla procura una relazione di oltre 3000 pagine in cui è disegnato il profilo delle infiltrazioni malavitose su cui sarebbe coinvolto il primo cittadino.